Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo ragazzi che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro quel video. La storia che vi vado a raccontare oggi è una storia davvero molto particolare, con dei risvolti davvero tragici. Vi avviso così in caso potete fermarvi quando volete e non sforzatevi mai. Il caso che vi vado a raccontare oggi è quello di Jamie Stice e del suo bambino, non ancora nato. È novembre del 2010, siamo a Bowling Green, la quarta città più popolosa dello stato del Kentucky. La protagonista del caso di oggi, come vi ho già detto, è Jamie, che vive con il suo compagno James a casa dei suoi genitori. Jamie è molto preoccupata perché vorrebbe confidare questa lieta novità a sua madre. Sono solite confidarsi per tutto, quindi la ragazza si sente fortemente in colpa a non averle ancora dato la notizia. Il punto è che Jamie non ha rivelato nulla per paura, in quanto crede che sua madre possa farle una bella ramanzina. Ha solo 21 anni e non è dipendente economicamente, non ha neanche una casa sua. Arriva però il giorno in cui Jamie prende coraggio e parla con sua madre. Svella il segreto che oramai tiene dentro di sé da giorni, giorni. È incinta. Sua madre a primo impatto ovviamente si preoccupa per lei, ma pensa anche che sia un po' inutile farle una scenata. Jamie è solo 21 anni, è vero, ma lei le sarebbe stata vicino e l'avrebbe aiutata col bambino e con la gravidanza. Jamie era preoccupatissima per la reazione di sua madre, ma una volta superato questo scoglio, è davvero felicissima, vuole avere quel bambino e dà la notizia a tutti, ma non per telefono, bensì tramite un social network, ossia Facebook. Jamie scarica anche un'applicazione per seguire lo sviluppo del feto di settimana in settimana. La ragazza voglia di creare una famiglia tutta sua anche perché la sua infanzia non è stata assolutamente facile. I suoi genitori si sono separati quando Jamie aveva appena due anni e quindi sua madre Jenny ha cresciuto da single sia lei che suo fratello maggiore Eric, fino a quando non ha conosciuto Mike che è diventato il patrino dei due figli di Jamie. Mike va molto d'accordo con i due ragazzi e non hanno proprio mai discusso su nulla. Questo accadeva perché lasciava totalmente i ragazzi liberi. Non si lamentava se ad esempio Jamie portava tanti suoi amici a casa. Se Jamie, la madre dei ragazzi, notava qualcosa di inappropriato o sbagliato, interveniva lei. Mike ha sempre preferito avere un ruolo marginale per quanto riguardava la crescita alla maturazione dei figli perché non era il loro vero padre. E questa situazione secondo me è alquanto problematica. Ok? Lasciare che sia la loro madre a punirli se è necessario. Credo non sei neanche troppo sbagliata questa idea in un certo senso. Ma se i figli di tua moglie si comportano male, credo sia giusto in ugual modo sgridarli per fargli comprendere che stanno sbagliando. In ogni caso passa il tempo e Jamie ormai è incinta di 10 settimane. La sua gravidanza non era assolutamente programmata ma sa bene che futuro vuole dare a suo figlio. ossia ciò che lei non ha potuto vivere nella sua infanzia. Jamie è determinata. Cerca anche lavoro, vorrebbe trovare un lavoro nel sociale. Le interessa soprattutto lavorare con i bambini. Lei per prima aveva avuto un'infanzia travagliata ma alla fine nessuno le aveva mai fatto del male. Jamie invece sa che ci sono tanti bambini che sono stati nuclei familiari problematici e violenti. Bambini che subivano violenze, che sono stati puniti senza un motivo reale. Bambini cresciuti a contatto con genitori che avevano problemi di dipendenza. Purtroppo questa è una realtà e Jamie lo sa bene. vorrebbe quindi dare una mano a questi ragazzini per migliorare la loro vita e per dare loro supporto. La ragazza inoltre vuole anche migliorare la sua di vita. Non ha un lavoro però incinta. E anche prima di rimanere incinta non è che navigasse nel loro. Sia lei che James e il suo compagno avevano sempre problemi economici. Jamie non vuole preoccuparsi di come pagare le bollette. La spesa è tutto necessario per il suo bambino. Quindi prova a dare una svolta alla sua vita. James, il compagno di Jamie, è un bravo ragazzo. Però è già stato sposato. Ecco perché Jamie non vuole spingerlo a sposarsi nuovamente. Prova a lasciargli spazio, evita di fargli richieste che potrebbero metterlo in difficoltà. E anche ora che è incinta crede che non sia giusto in ogni caso chiederle di sposarla. In fondo avrebbero potuto provvedere al bambino anche da non sposati. E poi per il matrimonio c'è sempre tempo. Nessuno gli corre dietro. Quello è un passo molto importante, oltre che costoso. James, come vi ho già detto, è un bravo ragazzo. Sebbene abbia già avuto una moglie, questo però non lo rende un uomo cattivo. Però è un bel problema. Non riesci in nessun modo a tenersi un lavoro stabile. Ha fatto tanti lavori occasionali. Inoltre dal suo precedente matrimonio ha anche avuto un figlio, ossia Gabe. Dovrebbe ovviamente prendersi cura di lui passando la sua ex moglie, ossia la madre di Gabe, dei soldi per aiutarla col bambino. Ma come vi ho già detto, James, un lavoro stabile, non riesce proprio a trovarlo. Quindi fa una grande fatica anche solo a dare dei soldi alla sua ex moglie. Passa il tempo, Jamie arriva al terzo mese di gravidanza e quindi va a fare un'ecografia, la prima ecografia, e scopre il sesso del bambino, scopre che aspetta un maschietto. La ragazza non perde tempo, pubblica immediatamente l'ecografia su Facebook, annunciando a tutti i suoi amici il sesso del bambino. A questo punto Jamie inizia di conseguenza a pensare al possibile nome da dare a suo figlio. E una sua amica di nome Kelly passa un pomeriggio a trovarla, portandola il libro dei nomi e il loro significato. Le due ragazze iniziano insieme a sfogliarlo, stanno a cercare per davvero, davvero delle ore. Leggono tantissimi nomi fino a che Jamie legge il nome Isaia. Questo è un nome biblico, che significa Dio e la salvezza. Ed è proprio il significato di quel nome che colpisce Jamie. È davvero felice di quel nome, è contenta del suo significato e quindi decide che il suo figlio lo chiamerà così, Isaia. Arriva quindi la primavera del 2011 e Jamie è incinta di sette mesi. La gravidanza è sempre più difficile per Jamie, non può più uscire, si sente giù, si sente sola, si annoia, non sa che fare. Le fanno male i piedi, le fa male la schiena, fa fatica a camminare. E ovviamente Jamie in questa situazione cosa fa? Cerca l'appoggio del suo compagno James. Però le cose vanno male, James è sempre più negativo e distante. Lascia Jamie da sola per andare dai suoi amici, per andare a bere con i suoi amici, per andare a giocare con i suoi amici. Ma soprattutto, ancora, non ha un lavoro stabile. Il rapporto tra Jamie e James è chiaro, si sta deteriorando e Jamie usa sempre di più internet per tentare di dare sfogo alle sue emozioni, ai suoi sentimenti, a ciò che prova. Si sente ogni giorno sempre più sole, ogni volta che Isaia le dà ad esempio un calcetto, non manca di scriverlo su Facebook aggiungendo sempre la stessa frase, ossia non vedo l'ora di vederti Isaia, mamma ti ama tanto. Jamie parla anche spesso col bambino, parla con la pancia e gli canta spesso You are my sunshine di Jamie Davis. Più passa il tempo, più James diventa assente. Jamie deve stare per forza a casa e si rende conto che il suo compagno passa più tempo con i suoi amici che con lei. Preferisce allontanarsi sempre di più da casa, rientra tardi la sera, ma soprattutto si disinteressa sempre di più della gravidanza di Jamie. È inevitabile che la ragazza rimanga lì da sola a piangere. Più passa il tempo, più le crisi di pianto di Jamie peggiorano, in quanto inizia a pensare che lei, quel bambino, avrebbe dovuto crescerlo da sola. Poi però succede qualcosa, anche qualcosa di banale se vogliamo essere onesti. Jamie riceve un'amicizia su Facebook. Appena Jamie l'accetta, la persona che le ha chiesto l'amicizia, si mette immediatamente in contatto con lei scrivendole, come stai? So che stai per diventare mamma. Su Facebook questo contatto è di una certa, Katie Michelle Coy. È sera, quindi Jamie non risponde subito a quel messaggio, lascia perdere, insomma, spegne il computer e se ne va a dormire. Arriva quindi la mattina seguente, Jamie deve fare colazione e mentre sua madre gli ha i fornelli che sta spadellando per preparare uova e bacon, Jamie non lascia perdere il messaggio ricevuto la sera prima, non riesce proprio a ignorarlo. È davvero troppo curiosa e quindi risponde a Katie. Jamie ovviamente le scrive, ciao, per caso ci conosciamo? Katie risponde che è una cugina di Becca, ossia una vecchia amica di Jamie e continua scrivendo esattamente queste parole. Ho saputo che sei incinta e lo sono anch'io, così ho pensato di passare da te a salutarti. Noi future mamme dobbiamo stare unite. Jamie, come vi ho già detto in quel momento, è con sua madre in cucina. Le spiega quindi la storia che ha avuto inizio solo la sera prima e poi aggiunge, ora mi ha scritto che è la cugina di Becca. Jenny, la madre di Jamie, Becca la conosce molto bene, quindi chiede a sua figlia di controllare se questa Katie tra gli amici Becca ce l'aveva davvero e appena la vede si tranquillizza. La madre di Jamie quindi pensa che questa nuova amicizia possa giocare a sua figlia. Con James e suo compagno che ogni giorno si allontana da lei sempre di più, la ragazza ha davvero bisogno di sostegno e il sostegno di un'altra donna è stato interessante e potrebbe essere di grande aiuto per Jamie. Avrebbero potuto parlare del peso del pancione, dei piedi, delle caviglie gonfie, delle gambe che fanno male, della schiena distrutta. Avrebbe inoltre magari trovato un'amica con cui far giocare il piccolo Isaia una volta cresciuto. Jamie quindi, rassicurata dal contatto in comune in quanto Becca la conosceva da una vita, comincia a chattare con la sua nuova amica di internet ed effettivamente quello che aveva ipotizzato la madre di Jamie si avvera. Succede realmente. Spesso Jamie e sua madre chattano insieme con Katie. Jamie poi si confida con lei raccontandole le difficoltà della gravidanza. Le spiega che per lei è il primo mentre Katie sostiene di aver già avuto due bambini col suo ex marito, ora è incinta del suo nuovo marito, Shannon. I messaggi che si scambiano Katie e Jamie sono davvero innocui. Ad esempio Katie le chiede se riesce ancora a camminare bene e Jamie le risponde in modo anche scherzoso non cammino, ondeggio come una papera. Quindi inizialmente si fanno delle confidenze legate solo al loro stato interessante. Poi un giorno Katie inizia a parlare di suo marito. Katie dice a Jamie che suo marito è spesso fuori città per lavoro, quindi scrive dei messaggi a Jamie col fine di sfogarsi. Le dice che deve stare da sola ad occuparsi di tutti i bambini e il peso della pancia le rende davvero difficile tenerli a bada. È davvero stanca. Jamie in tutta risposta le rivela che è fortemente preoccupata per il rapporto con il suo compagno. James che ormai pare di non essere minimamente interessato al figlio che ha Jamie in grembo e Jamie per la prima volta confessa la sua più grande paura. Jamie rivela a Katie che ha paura di doversi occupare del piccolo Isaia tutta da sola. Per Jamie è chiaro che questa amicizia non avere proprio abboccata d'aria fresca. Cercava proprio una ragazza, un'amica come Katie per sfogarsi. Katie riesce a comprenderla, capisce le sue paure, l'ascolta ma non la giudica e Jamie di un'amica così ne aveva proprio bisogno. Arriva la trentesima settimana di gravidanza e Jamie riceve un duro colpo. Ora non solo il suo compagno James non ha un lavoro e preferisce passare il tempo con i suoi amici piuttosto che a casa ma anche sua madre e il suo patrigno il lavoro l'hanno perso ed erano chiaramente loro che aiutavano Jamie con le visite mediche, con la spesa. Ma ora che nessuno ha più un lavoro la nascita di Isaia mette fortemente in agitazione Jamie perché è consapevole che un neonato non solo ha bisogno di tanta attenzione ma anche di soldi per potersene prendere cura. Per comprare il cibo, il pannolini. Non si tratta semplicemente di mettere un piatto in più a tavola a colazione, pranzo e cena. È un qualcosa di molto più importante e delicato e Isaia una volta nato avrebbe dovuto affrontare delle visite, delle vaccinazioni, sarebbe dovuto andare dal pediatra, avrebbe dovuto avere una culla per sé, un passeggino e a quel punto anche comprare un biberon potrebbe essere un problema. Perché di soldi non ce ne sono e non è che non bastino, proprio non ce ne sono. Jamie quindi confida questa nuova triste notizia a Katie e Katie le risponde. Noi donne dobbiamo essere indipendenti, lavori in un gruppo che aiuta le donne come te e credo che potrai rimediarti anche delle cose per il bambino, forse qualche soldo. Jamie ovviamente sta vivendo un momento davvero problematico e dal momento in cui Katie le dice che avrebbe potuto procurare per lei delle cose utili per il bambino, come vestitini o pannolini, di certo non si è lasciata sfuggire la proposta. Jamie avrebbe fatto di tutto per suo figlio, per Isaia. Passa qualche giorno e Katie nota che la situazione insomma si fa abbastanza positiva, quindi propone a Jamie di andare a trovare lei e sua madre a casa loro, a Bowling Green. Ovviamente madre e figlia accettano di buon grado, questa ragazza sta dando un aiuto enorme a quella famiglia. Sia Jamie che Jenny, quindi sia la figlia che la madre, sono davvero contente di conoscere quella ragazza così tanto gentile da volerla aiutare in un modo così importante e concreto. Quando Katie arriva a casa di Jamie, fa un'ottima impressione entrambe, anche sua madre ha un'ottima impressione di lei. Katie anche in quel caso si offre nuovamente di aiutare in modo concreto e col passare dei giorni inizia ad andare a trovare le due donne sempre più spesso a Bowling Green, a casa loro. Le sue visite però non si limitano a dare una mano per aiutare a recuperare cose utili per il bambino. Quel tempo infatti inizia anche ad offrire a Jamie, la madre di Jamie, dei passaggi in macchina. Più Katie fa favori a Jamie e a Jamie, più le va a trovare. Prima quantomeno avvisava, poi ha iniziato a fare delle visite totalmente a sorpresa. Semplicemente Katie va a casa di Jamie e Jamie e bussa alla porta. Inizialmente lo fa un paio di volte alla settimana, poi tre, poi quattro, poi cinque volte a settimana. Fino a passare a casa di Jamie e Jamie tutti i santi giorni. E sempre a casa delle due donne e non si limita più a regalargli biberon o vestiti per il bambino o ancora offrire passaggi. Ma inizia anche ad aiutare le due donne con le bollette che non riescono a pagare, dando quindi loro dei soldi. Ma arriva un giorno, è il 13 aprile. Sono le 9.30 del mattino e Katie accompagna Jenny in città. La donna deve fare delle commissioni poiché Katie sarebbe dovuta tornare a prenderla per portarla a casa e poi andare via con Jamie. Jamie e Katie in quel pomeriggio hanno in programma di andare a fare shopping in un negozio di vestiti per neonati. Katie quindi passa a prendere Jenny, la accompagna in città, e appena si ferma per salutarla le dice, torno a casa a prendere Jamie e poi ti vengo a recuperare. Jenny dice, va bene, quindi lascia tutto nella macchina di Katie. Tiene con sé solo il suo cellulare. Quando finisce di fare le sue cose, Jenny torna al parcheggio dove si erano ridate appuntamento lei e Katie, ma non trova nessuno. Prova quindi a contattarla, ma Katie risponde che ha le doglie e che quindi è dovuta andare all'ospedale. Jenny a questo punto è bloccata in città, non sa come tornare a casa, ma fortunatamente rimedia un passaggio da suo fratello. La donna torna a casa tre ore dopo essere uscita, quindi verso più o meno l'ora di pranzo, e a questo punto è convinta che siccome Katie è in ospedale, il loro appuntamento per andare a comprare i vestitini si è saltato. E invece Jenny arriva davanti alla porta di casa, inizia a bussare, dice che ha dimenticato le chiavi, che non ha le chiavi con sé, ma Jamie non risponde. Jenny quindi chiama sua figlia al telefono, ma suona a vuoto e quindi inizia a lasciare diversi messaggi sempre più preoccupati. Ormai per Jamie manca poco al parto, per lei non è assolutamente facile uscire di casa. Quindi sua madre in un primo momento è convinta che sua figlia sia in casa, priva di sensi. Passa un'ora e il padre adottivo di Jamie, Mike, torna a casa e quindi apre la porta con le sue chiavi. Mike è alquanto tranquillo, è sicuro che Jamie sia in casa, quindi apre la porta di casa con tranquillità e inizia a cercare Jamie con Jenny. Guardano al piano terra e al primo piano, dove ci sono le camere da letto, ma della ragazza non c'è traccia. Jenny a questo punto prova a cercare meglio, magari sua figlia le aveva lasciato un biglietto per avvisarla, in quanto non era assolutamente solita allontanarsi da casa senza avvisare, specialmente nella sua condizione. Quel 13 aprile, Jenny per la prima volta non trova nessun appunto di sua figlia. È semplicemente sparita nel nulla. Jamie non risponde al telefono e ormai sono passate 5 ore da quando lei e sua madre si sono viste. Ma soprattutto al parto di Jamie mancano solo 5 settimane. Jenny non pensa che sia stata rapita o cose simili, ma ha la netta sensazione che qualcosa proprio non vada. Non ne ha la certezza, ma le appare improbabile che sua figlia si sia allontanata, incinta di 7 mesi, a piedi, senza avvisarla. L'unica speranza di Jenny è una. Spera che sua figlia abbia accompagnato Katie all'ospedale per le doglie. Quindi Jenny scrive un messaggio a Katie per chiedere se sa per caso dove sia sua figlia. Quando Katie risponde, beh, è a casa, Jenny a questo punto inizia davvero ad allarmarsi. Perché a questo punto Jenny non ha proprio la benché minima idea di dove possa essere sua figlia. Jenny a questo punto che cosa fa? Inizia a chiamare tutte le amiche di Jamie per sapere se per caso sua figlia era con loro. Magari erano passate a prenderla, Jamie si era dimenticata di avvisare. Ma Jenny, anche dagli amici di Jamie, non riceve notizie positive. Jenny non sa che fare, quindi si loga sul profilo Facebook di sua figlia e scrive uno stato. Ossia, qualcuno ha parlato con Jamie oggi? Non è a casa. Se sapete dov'è, per favore, scrivetemi. Passano ormai sei ore e Katie chiama Jenny dicendole che ha partorito e che è nato un bambino. Jenny dice a Katie che le fa piacere, ovviamente che sarebbe andata a trovarla presto all'ospedale, però è molto preoccupata perché non trova sua figlia. Katie però fa molto la vaga, dice ma io l'ho lasciata a casa, non ne ho idea. Intanto appena a sei chilometri di distanza una donna viene ricoverata all'ospedale di Bowling Green dopo aver partorito a casa. I dottori e le ostetriche quindi iniziano a fare dei controlli di routine sulla madre e sul bambino, in quanto se una donna arriva al pronto soccorso dicendo di aver partorito in casa, è necessario controllare che non ci sia alcune emorragie in corso. È proprio durante questa visita che lo staff dell'ospedale nota qualcosa di strano, non c'è sangue. Non c'è assolutamente nulla che dimostri che quella donna abbia davvero avuto un bambino a casa. Ma non è finita qui, perché il medico del pronto soccorso si è reso conto che il bambino nato a casa non ha attaccato a sé solo la placenta e il cordone ombelicale, ma anche degli organi femminili. Insomma, si vede chiaramente che il neonato non è attaccato solo alla placenta e il cordone ombelicale, ma anche all'utero e alle ovaie. Lo staff dei medici ben presto si allarma, quindi contattano la polizia perché la situazione sta iniziando a diventare alquanto assurda. La polizia dello stato del Kentucky risponde alla chiamata dello staff medico di Bowling Green. I medici sono stra convinti che quella paziente in realtà non abbia partorito per niente. Quindi le autorità devono scoprire dove questa ragazza abbia preso questo bambino. E questa ragazza si chiama Katie Michelle Coy. In poco tempo un ispettore entra nella camera in cui sta Katie e lei immediatamente lo aggredisce, gli chiede dove sia il suo bambino. È nato prematuro ma è molto preoccupata visto che ha partorito a casa. Ma l'ispettore le risponde, guardi, io ho appena parlato con i dottori che l'hanno visitata e dicono chiaramente che lei non ha partorito, quindi quello non è suo figlio. I dottori quindi sono molto preoccupati per la vera madre di quel bambino, perché a questo punto è chiaro per tutti che il bambino che ha portato all'ospedale Katie non è suo figlio. I dottori sono molto preoccupati per la vera madre, perché a questo punto Katie sappiamo benissimo che quello non è suo figlio. Dove ha preso quel bambino? Katie continua a difendersi e dice che quel figlio è suo figlio. L'ha partorito lei a casa, ma è nato prematuro. L'ispettore però non molla, guarda Katie e le dice, Katie, basta bugie, perché questo non è vero e tu lo sai benissimo. Dimmi dove hai preso il bambino. Dove Katie? Dove hai preso quel bambino? Le autorità pensano che ci sia ancora una speranza per trovare la madre di quel bambino in vita, ma Katie Coy si rifiuta di collaborare. Le autorità quindi la scortano in macchina per portarla alla centrale di polizia, per interrogarne in modo serio su cosa si è successo. A questo punto sanno che è colpevole, l'obiettivo sta nel farla parlare. Le autorità sono consapevoli che la priorità principale è ritrovare la madre naturale di quel bambino. Quindi si dirigono in tutta fretta a casa di Katie Coy col fine di perquisirla, sperando di trovare qualcosa, magari un indizio, su dove possa essere la madre del bambino che Katie ha fatto finta di partorire. Gli investigatori in breve tempo controllando in casa di Katie Coy trovano un nastro adesivo, un taser e diversi coltelli. Ma non solo, in questo caso gli investigatori scoprono un qualcosa che potrebbe essere davvero decisivo per il caso di Katie Coy. Infatti aprono il suo computer e scoprono che è già logato su Facebook. In questo modo gli inquirenti iniziano a guardare cosa posta Katie, leggono i suoi vari messaggi privati e scoprono che Katie è solita usare internet per cercare donne incinte. Infatti tra gli amici di Katie ci sono altre tre donne incinte che dovevano partorire più o meno nello stesso periodo di gemi. Vengono quindi inviati degli agenti per tutta la contea, col fine di ritrovare le vittime, perché la polizia nel profilo Facebook di Katie ne ha trovati tre di ragazze incinte. Quindi è possibile che Katie non abbia fatto male solo ad una donna, ma a tre. Intanto Jenny aspetta ancora a casa, sono ormai passate 14 ore da quando ha perso le tracce di sua figlia e quando bussano alla porta verso le 11 di sera Jenny è convinta che sia gemi. Ne è sicura, però una volta che apre la porta si trova davanti le autorità. Le autorità fanno la stessa domanda che Jenny si pone da tutto il giorno, ossia dov'è sua figlia Gemi? Gemi dice la verità, sostiene di non vedere sua figlia dalla mattina. Non sa dove sia e stava per chiamare lei stessa alla polizia per denunciarne la scomparsa. Le autorità a questo punto fanno una domanda ben specifica a Jenny, ossia sua figlia Gemi per caso era amica di Katie Coy? Jenny dice di sì. Quindi gli agenti fanno un rapporto all'ispettore che nel frattempo sta continuando a interrogare Katie. Finalmente per l'ispettore le domande da appoggiare a Katie diventano ben più decise e precise. E infatti l'ispettore chiede a Katie semplicemente dove sia Gemi Stice. Katie inizialmente fa la finta tonta per un po', dice ma io non conosco nessuna Gemi Stice in realtà. Non ho proprio la ben minima idea di chi sia, non ho mai sentito questo nome nella mia vita. L'ispettore la guarda e le dice andiamo Katie, abbiamo trovato il suo nome sul suo computer. Era incinta di sette mesi. Quello che ha portato all'ospedale è il suo bambino. Katie prima dice di aver avuto il bambino da una certa Ashley. L'ispettore quindi chiede a Katie, Ashley chi? Katie, chi è Ashley? Dove la trovo? Katie però non sa inventarsi una storia che regga nel giro di 5 secondi. Di conseguenza non riesce a rispondere alle domande dell'ispettore. Alla fine Katie dice addirittura che quel bambino l'ha comprato per 550 dollari. Ma anche in questo caso l'ispettore la guarda e gli dice ok Katie e dove l'ha comprato? Chi gli ha dato questo bambino? Katie, di nuovo, fa scena muta. Quindi l'ispettore capisce chiaramente che anche in quel caso Katie sta dicendo una balla. Katie cambia versione almeno 20 volte. Dalla polizia 20 versioni diverse ma non riesce a chiarirne una diversione. Prima quel bambino l'ha preso da una certa Ashley ma se l'ispettore gli chiede chi sia questa Ashley lei non sa rispondere. Poi Katie dice all'ispettore che quel bambino l'ha comprato ma quando l'ispettore gli chiede da chi l'abbia comprato e come, di nuovo Katie fa scena muta. Gli inquirenti sentono varie versioni tutte quante assurde. Katie si arrampica sugli specchi con le unghie e con i denti per far uscire una versione compatibile che non la dipinga come un'assassina ma non ci riesce. Katie non è credibile e non dà delle informazioni delle versioni utili alla polizia. Quindi alla fine l'ispettore torna sulla stessa domanda e dice a Katie ci dica semplicemente com'è andata veramente Katie perché tanto lei è qui. È una sospettata e di certo non la faremo andare a casa. Sappiamo che è colpevole che ha fatto qualcosa. Dov'è Jamie? È il suo bambino quello che lei ha fatto finta di partorire? Dopo ore di interrogatorio Katie lo ammette. Dice che è stata lei. Ashley non c'entra niente con questa storia e lei la colpevole. È lei che ha freddato Jamie. Sostiene che lei aveva bisogno di quel bambino perché quel bambino in realtà era suo. Katie una volta confessato porta agli agenti nel luogo in cui ha nascosto il corpo, ossia in una zona isolata immersa nella boscaglia accanto a un'autostrada. Gli agenti quando trovano Jamie rimangono alquanto sbalorditi. La donna ha una lunga lacerazione alla gola e ai polsi e un'ampia ferita all'addome da cui il bimbo era stato rimosso. Arriva il 14 aprile. Gli inquirenti bussano di nuovo a casa di Jenny e le danno la terribile notizia. Sua figlia non c'è più. Jenny ha un crollo, scoppia in lacrime, vuole vedere sua figlia. Ma gli agenti le sconsigliano fortemente di vedere il corpo di sua figlia. Le dicono che per lei è molto meglio ricordarla in vita. Dopo tutto ciò emergono dei dettagli a mio parere ancora più raccapriccianti. In quanto Katie dopo aver portato Jenny in città quel 13 aprile è andata a prendere Jenny. L'ha freddata. Ha preso il suo bambino e poi è andata a casa di una sua amica, Shelley Linsley, nella contia di Butler a Morgantown, dicendo di aver partorito in macchina. Katie è scesa dalla macchina con il bambino in braccio. Shelley ha chiamato l'ambulanza ma tutti si sono resi conto anche a prima vista che in quel bambino c'era qualcosa che non andava. In quanto sembrava avesse degli organi femminili attaccati a sé. Nonostante ciò Katie chiede alla sua amica Shelley di scattare una foto del bambino. In modo da mandarla a Shannon Coy, il marito di Katie che sta lavorando fuori città. Il punto è che Shannon e Katie neanche sono più sposati e secondo Katie l'arrivo di un bambino avrebbe potuto rimettere insieme la loro relazione andata in pezzi. Quindi è questo il vero motivo per cui Katie ha commesso un crimine tanto atroce. Voleva riavere dietro suo marito, la sua famiglia. Katie ha avuto due figli anche da due precedenti uomini e Shannon ovviamente si è preso cura di loro quando stavano insieme ed erano sposati. Pensate che Katie ha provato anche a chiedere a loro, i suoi figli, di aiutarla in questo tremendo crimine. Stiamo parlando di due ragazzini di 13 e 14 anni. Come può una madre chiedere ai suoi figli, che sono peraltro così piccoli, di macchiarsi di un crimine così tanto atroce? I figli di Katie hanno rifiutato. Ma se per caso avessero detto di sì, Katie non si sarebbe fatta scrupoli a chiedere una mano anche a loro per commettere il suo crimine. La verità è una. Katie Coyne non è mai stata incinta ed è stata in contatto con Jamie per mesi col fine di portare a termine il suo obiettivo e raggiungere il suo traguardo malato. Katie indossava sempre panci finte e per di più aveva anche rubato un'ecografia per dimostrare a tutti quelli che le stavano attorno che lei davvero era incinta. Perché nessuno le credeva. Perché? Perché le persone attorno a lei sanno che tra lei e Shannon, il suo ex marito, non è che cura tutto questo buon sangue. Insomma, si sono separati, non stanno insieme. E Shannon è praticamente perennemente fuori città per lavoro. Shannon, l'ex marito di Katie, cerca di evitare l'ambiente familiare. Cerca anche di evitare Katie perché la donna non riesce proprio ad accettare la fine della loro relazione. Katie, nella sua follia, è arrivata addirittura a cercare su internet, su Google, come si effettua un taglio cesario. Il passo successivo è stato quello di procurarsi l'attrezzatura necessaria per mettere in atto il suo piano a dir poco raccapricciante. Katie aveva letteralmente creato un kit per fare del male a Jamie. E quando la polizia lo trova, ecco che saltano fuori due coltelli di cui uno, per tagliare il calzon gesso, è un teaser. Per di più, in realtà, Ashley era un'amica di Katie. E quest'ultima ha fatto il suo nome alla polizia per tentare di discolparsi. Ashley su Katie ha detto questo. Desiderava disperatamente dimostrare a tutti che era incinta. E immagino che nessuno le credesse. Quindi, presumo, abbia fatto questo gesto terribile per dimostrare a tutti che effettivamente era incinta e avrebbe avuto un bambino, anche se in realtà quello non era suo bambino. Katie Michelle Coy, quindi, confessa. E sebbene dopo varie perizie psichiatriche risulta palese che abbia dei problemi mentali, viene condannata all'ergastolo senza condizionale nel 2012. L'unica cosa positiva di questa tragedia, credo sia una. Isaia, il figlio di Jamie, è sopravvissuto. Ce l'ha fatta. È vivo, ha circa dieci anni e ora sta con suo padre James. In questo caso, a mio parere, è agghiacciante, ma è anche interessante da un altro punto di vista. Katie, quella donna, è riuscita a infilarsi nella vita di Jamie. È riuscita a diventare sua amica. Jamie e sua madre l'accoglievano quotidianamente a casa loro. Non immaginavano assolutamente nulla. Katie è fortemente manipolatoria ed è riuscita ad ottenere la fiducia di Jamie e di Jamie grazie ai doni che portava loro. Katie capisce perfettamente che il problema principale di quel nucleo familiare sono i soldi e quindi ecco che trova un modo per conquistarsi la loro fiducia. Regala quindi a loro tante cose per il bambino, come biberon, vestiti. In questo modo, Jamie e Jamie credono di aver di fronte una donna che le vuole sinceramente aiutare. Per concludere questo video, ragazzi, un'unica cosa. Tutto questo ha avuto inizio grazie a un social network, Facebook, che è un social utilizzato da tutti. Anzi direi che ultimamente Facebook è un social che è passato alquanto di moda. Ma il tramite è sempre lo stesso. Internet. In questo caso però non abbiamo solo una ragazza di 21 anni che si è fidata della persona sbagliata. Non abbiamo un adolescente che ha iniziato a sentire qualcuno su internet perché è annoiato. Abbiamo toccato diverse volte casi in cui il protagonista assoluto è internet. E abbiamo visto diverse situazioni su diversi social network o su chat per incontri. In questo caso però abbiamo anche una donna adulta, una madre che non ha avuto alcun sospetto su Katie. Neanche quando non riusciva a trovare sua figlia. Jenny ha pensato male di Katie Michelle Coy. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere quello che volete su questo caso. Lo conoscevate? Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.